Ad Acireale atteso cambio di programma nei lavori consigliari di domani, infatti domani nel Salone delle Terme niente bilancio di previsione e niente istituzione della Fondazione Bellini, ma si terrà un consiglio comunale straordinario sui danni del maltempo. Ieri simbolico scambio epistolare tra il sindaco Roberto Barbagallo e il presidente del consiglio comunale Rosario Raneri. Il primo cittadino ha chiesto formalmente al più alto scranno consigliare di venire a riferire in consiglio sui problemi che la città ha vissuto sulla propria pelle dopo la tromba d'aria di giovedì e sul lento ritorno alla normalità. Chiedo segnalazioni e suggerimenti a tutti i consiglieri, ha spiegato Barbagallo in una nota. È doveroso che il consiglio si occupi degli eventi atmosferici che hanno colpito la città negli ultimi giorni, ha risposto il presidente Raneri. Anche se è probabile che di bilancio di previsione si torni a parlare giovedì nel Salone delle Terme, visto che il comune di Acireale è in netto ritardo sulla tabella di marcia, anche se è altrettanto evidente che in questi giorni le priorità siano state altre. Grazie a tutti.